buongiorno a tutti torno nuovamente a parlarvi della situazione che mi capita spesso di vedere sul mio canale di persone che si iscrivono al mio canale con la classica frase mi sono iscritto ti iscrivi anche tu al mio allora come ho già detto io sto già seguendo 15 persone e per seguire 15 persone intendo proprio che come la cappanella mi avvisa che c'è un loro video io appena posso lo vado a vedere per esempio stasera mi sono sparato due ore e mezza di diretta di diego ligorio e mario inter dalle 21 e 45 a mezzanotte in quarto quindi ho la fortuna o la sfortuna tra virgolette di avere dei lavori tra virgolette per modo di dire in attesa di averne di più seri quindi tra virgolette la sfortuna la fortuna di avere un po più di tempo libero quindi riesco ancora a seguire le persone ma se avesse un lavoro normale umano come non hanno tutti dalle 9 alle 18 dalle 8 alle 17 dalle 7 alle 16 come diceva di avere mario inter stasera il tempo è quello che è perché comunque non potrei stare su fino all'ora che adesso dovremmo essere intorno all'una una e mezza non potrei stare a fare i miei video o sto a fare i video sto a guardare i vostri eccetera eccetera comunque io sto seguendo già eugenio cannavo che fortunatamente fa dei video molto corti e anche se ne fa due o tre al giorno ti fa perdere perdere tra virgolette perché è sempre un piacere andarlo a vedere cinque minuti sei minuti o toni pellegrino anche lui fa due tre video al massimo al giorno sempre molto corti quindi di tre quattro cinque minuti al massimo esagerando ma di solito è intorno ai tre minuti quattro minuti poi ho diego ligorio che invece video li fa molto più lunghi ti fanno scompisciare dal ridere quindi è un piacere andarlo a vedere anzi ve lo consiglio che poi dopo io che sponsorizzi diego ligorio che ho 65 utenti luni a 10.000 è una comica comunque diego ligorio è un interista ti fa morire da ridere così come mario inter ecco diego ligorio li fa abbastanza lunghi li fa di 10 15 anche 25 minuti però ne vale sempre la pena perché ti fa scompisciare con quello che dice con le imitazioni che fa poi c'è mario inter mario inter fa dei video abbastanza corti 35 minuti anche lui dice delle cose particolari ti fa ridere perché comunque magari si mette a fare certe imitazioni o certe cose che ti fanno scompisciare e quindi ne vale la pena anche lui però ripeto non è li fa tanto lunghi solitamente poi c'è sarinca gio 23 una ragazza interista bravissima che fa dei video sia sull'inter che solitamente sui video sull'inter sono abbastanza corti nell'ambito dei 10 minuti al massimo e inoltre fa dei video diciamo molto particolari molto belli su argomenti fantascientifici sul paranormale eccetera che però sono anche di 20 25 minuti non è che sono corti poi c'è va bene giammarco cirulli giammarco cirulli è un ragazzo milanista quindi teoricamente non dice cacchio gigi ma sei interista cosa vai a vedere un milanista ma giammarco cirulli è un ragazzo che merita fa dei video abbastanza corti quindi comunque non ti fa tra virgolette perché perdere tempo piacevole perché è bello vederli ti fa ridere lui parla di milan parla di calcio parla di cinema parla di un po di tutto quindi non svaria su tutti un po su tutto un po come me lui è dichiaratamente più tifoso di me io cerco di essere un attimino meno o meno anche se qualcuno mi dice no ma tu sei interista si vede ma comunque cerco di parlare un po di tutto poi ho la copiata vincente quella che mi ha fatto conoscere praticamente il mondo youtuber e che sono un po di anni che mi c'è da quando li conosco mi dicono ma perché non lo fai anche te e sono l'illetta eli e soprattutto stefano piffer allora sia l'illetta eli ve ne ho già parlato che stefano piffer fanno dei video riguardanti i cartoni animati recensioni varie di cose scolastiche stefano piffer mentre l'illetta eli è più sui cartoni animati le serie tv e magari anche i videogiochi perché no sono due canali molto carini se volete andate a dargli un occhio fortunatamente loro fanno un video alla settimana lunedì che lunedì è il loro giorno quindi non è che devi impazzire più di tanto e sono anche abbastanza dei video nell'ambito dei 5 10 minuti anzi di solito ci mettono anche molto meno dipende dall'argomento che trattano poi ho luca nerazzurro che è la triade degli interisti luca nerazzurro mario inter diego ligorio alla quadriade poi vi parlerò anche dell'altro luca nerazzurro è un altro ragazzo che parla di inter e che fa video di tre minuti quattro minuti ne fa due o tre al giorno in base alle notizie che arrivano sull'inter ma devo dire che abbastanza rapide mi raccomando al mercoledì lui fa sempre le pronostici per la per le partite del campionato quindi per gli scommettitori potrebbe essere un'idea per andare a ad avere qualche dritta o qualche idea su che cosa scommettere poi ho la ragazzina una polpetta per amica che è una ragazzina giovanissima a 20 anni molto simpatica che parla della sua esperienza di vita che non è stata sicuramente molto facile però devo dire che la prende abbastanza tra virgolette bene e non ha problemi non ha peli sulla lingua raccontare le cose come stanno è quello che gli è successo una ragazza molto ripeto simpatica ma anche bella tosta ha 20 anni e giovane però mi piace ascoltarla eccetera poi c'ho le esperte c'ho il canale di aller channel che è una cantante ed è anche una bella ragazza che fa video sia per quanto riguarda le femmine quindi sono video che io guardicchio per modo di dire o magari lascio andare per dargli la visualizzazione ma che condivido poi su facebook per le mie per le mie amiche che magari possono sfruttare i consigli che lei dà sia per quanto riguarda il trucco che per quanto riguarda gli abiti poi ho la numero uno nadia tempest che praticamente è una bravissima youtuber da ormai dieci anni ha più di 700 mila follower e lei anche lei parla un po di tutto e parla anche di cose divertente tipo il segreto ti adesso sta facendo il la sims 4 con un personaggio che si chiama disa giada della serie disagio disa giada e adesso appunto nelle nella fase iniziale stava facendo vedere nell'ultimo video la sua casetta che ha costruito quindi c'è anche lei e anche lei i suoi video non è che sono cortissimi durano anche un quarto d'ora 20 minuti eccetera poi ho gli altri gli altri sportivi De Robbio Sport anche lui che spesso volentieri lascio andare gli metto il like perché umanamente non ce la faccio a vedere anche lui poi ho Neschio Neschio invece è un ragazzo che seguo tantissimo è un interista che è molto pacato tranquillo nei suoi nelle sue disamine diciamo disanime disamine mi confondo sempre e anche lui però fa dei video che spesso volentieri possono essere molto lunghi soprattutto quando fa rispondo alle domande durano 45 minuti magari poi lo vedi dopo che ha risposto alle domande che gli hai fatto in un video precedente e naturalmente lo vai a vedere perché se gli hai lasciato la domanda vuoi sapere se ti ha risposto o meno però durano magari 40 magari 40 45 minuti un'ora e infine c'è il nuovo la new enter Danilo Paolillo che inizierò a seguire anche lui e con questo siamo arrivati a 15 quindi umanamente che voi veniate sul mio canale a dirmi ti iscrivi io mi posso anche iscrivere ma tanto non ti posso seguire quindi non so quanto ti possa servire avere un abbonato in più tra virgolette che tanto non ti dà visualizzazioni volete venire sul mio canale venite se vi piaccio mi seguite se non vi piaccio non mi seguite ma non mi fate il giochino io mi sono iscritto iscriviti anche te perché ripeto ho bisogno di visualizzazioni non di avere 50.000 persone che non mi e 100 visualizzazioni preferisco avere 100 persone 10.000 visualizzazioni perché entrano spesso e volentieri a caso a vedere i miei video che non avere gente che è iscritta ma che umanamente anche lui non può seguire tutti perché se abbiamo mille iscritti di cui 999 sono follower sono sono youtuber che dobbiamo seguire cosa facciamo passiamo 24 ore su 24 a seguire gli youtuber credo che sia umanamente impossibile quindi ve lo chiedo di nuovo per favore se volete iscrivervi al mio canale ben felice accolgo tutti non ho problemi eccetera se dovete iscrivervi perché io mi iscrivo al vostro fatene a meno perché mi sembra una cosa abbastanza ridicola ripeto poi fate come volete niente mi sono dilungato un po troppo questo video temo che lo vedrete stasera mercoledì sera perché è il quarto che metto quindi ora che si caricano tutti facciamo notte però mi andava di di sponsorizzare tra virgolette le persone che seguo perché comunque sono brave e spiegarvi anche la mia situazione magari il motivo per cui e da adesso in poi se qualcuno mi dice mi sono iscritto ti iscrivi io non mi iscriverò perché ripeto mi scappa da ridere ciao ciao